Space riparte dalla città di Ascoli Piceno per arrivare questa volta a San Giorgio a Cremano. San Giorgio a Cremano è una città che ha dato i Natali, il luogo di elezioni di tanti, tantissimi artisti. Ogni volta che Space arriva in un territorio inizia una storia completamente nuova. Il format si trasforma e si arricchisce. Lo facciamo attraverso i linguaggi del corto comico e della stand-up comedy. Io ho capito che stavo invecchiando nel momento in cui ho sostituito il porno con immobiliare.it. Se prima mi trastullavo guardando donne che non avrei mai potuto avere, adesso lo faccio guardando case che non mi potrò mai permettere. Space va questa volta a rigenerare uno spazio che si chiama Villa Bruno, che per l'appunto è una villa vesuviana. Lo facciamo quindi attraverso la comicità che tanto ha caratterizzato la città natale di Massimo Troisi. È stata rubata la bicicletta di Troisi. Ci sono tante domande, però io partiremo facendo vedere la piscina. La piscina cosa vi viene in mente? L'immersione territoriale. Sono le primissime luci del mattino, ma i nostri eroi sono già pronti a scattare all'immersione territoriale grazie a una colazione proteica e sana e un'abbondante tazza di caffè che non su tutti sortisce l'effetto sperato. I nostri si avventurano per le strade di Pietralavica in cerca di ispirazione. Guarda, guarda, questo è il villavano. È figa proprio, è bella. Ma non trovi che è un po' strano sto posto? Strano! In che senso? I ragazzi hanno avuto modo di vivere appieno la realtà e la cultura vesuviana. Questa immersione territoriale mi darà ancora tantissimo perché ho prenotato sempre altro di friaria e di sottolio. Perché è l'accenno culinario, cioè che qui praticamente chiedi una cosa e te la fanno extra large. Devi pagare per fartelo fare più piccolo. Pensavo di venire nella terra dei uomini e invece ho scoperto che questa è la terra dei uomini. e i uomini vincio. Questo cortometraggio vuole raccontare una realtà peculiare di questa zona. Il racket dei caffè da asporto. Non pensavo che i legami fra le persone potessero essere talmente forti anche in ambiti di lavoro. Continuano pedissecommente le riprese dell'opera cinematografica in onore del celebre Troisi Massimo. Arresta tuttua. Tutti in arresto! John George John George e San John Mi pare sentire il vostro calore ai uomini che stanno per salire su questo palco. Eh sì, sono quasi arrivato. Eh, sul Vesuvio. Io abito in via Vesuvio. Come via Vesuvio? Come via Vesdanio. Come via Vesuvio. Grazie a tutti